Musica 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 Ciao a tutti, sono Marco Pagani Oggi sabato è finita la settimana di prove purtroppo non abbiamo avuto tutta un'intera settimana per poter provare ma abbiamo perso un paio di giorni per vento, brutto tempo e ringhi vari martedì abbiamo girato sull'umido perciò abbiamo avuto poche indicazioni e i giri utili sono stati durante questi giorni 6-7 durante questi 6-7 giri sono riuscito costantemente a migliorare il setup della moto nonostante abbiamo incontrato varie difficoltà nel far digerire le buche al mio BMW pensavo di riuscire a sistemare le cose in minor tempo invece abbiamo ancora delle cose da provare e volevamo farlo nei due giri di stasera che purtroppo sono stati cancellati per forte vento sul mountain dunque ci apprestiamo a vivere la prima gara di domani con una moto con un'evoluzione di setting non utilizzata nelle prove e sperimenterò direttamente in gara questo nuovo setup spero di fare un ulteriore passo avanti e di riuscire a produrre una prestazione migliore di quella ottenuta durante le prove è sempre un piacere girare qui e voglio augurarmi di riuscire a avere un feeling maggiore con la moto e di essere sempre più contento e soddisfatto delle tre gare che cercherò di portare a termine nel miglior modo possibile grazie a tutti Grazie a tutti